Dopo un rinvio a causa del maltempo si è svolta sabato alla libreria Lungomare in passeggiata la prima edizione della Bibliomaratona di Carnevale. Ideatore dell'iniziativa è il giornalista del Tirreno Claudio Vecoli che ha voluto raccogliere tutte le più recenti pubblicazioni tematiche sulla manifestazione con i loro autori per una rapida rassegna da presentare al pubblico. Ogni incontro aveva una durata di mezz'ora e la giornata si è divisa in due sessioni, una alla mattina e una al pomeriggio con la moderazione di Stefano Pasquinucci. Molte le persone che si sono succedute durante la giornata per ascoltare gli autori di queste opere. Una scommessa vinta l'ha definita il suo ideatore con la mente già proiettata alla prossima edizione. Sì è stata una scommessa vinta direi perché era la prima edizione di questa maratona, Bibliomaratona anzi di Carnevale con tutti i libri legati appunto al Carnevale di Viareggio. Abbiamo scoperto tante curiosità, tanti titoli legati al Carnevale e siamo riusciti credo a farli scoprire anche al pubblico che è venuto qui alla libreria.